Per questa nostra trasmissione di Mosaicosmo siamo in compagnia di uno scrittore, di un poeta, di un intellettuale di grande livello. Siamo a Grotti in occasione del premio Martoglio, siamo insieme fra l'altro nella giuria del premio e Nino Agnello è uno scrittore di Grotti che può vivere però da molto tempo a Grigento ma è originario proprio di questa città. Un scrittore a tutto campo nel senso che si è occupato e si occupa di critica letteraria, di poesia, di saggistica, di narrativa e un autore non solo prolifico ma devo dire genuinamente e positivamente ispirato intanto da un'etica profonda che lo ha portato nella sua ormai ampia e lunga attività a scrivere tanti libri fra cui 18 libri di poesia che verranno raccolti dall'editore prestigioso Bastoggi con il titolo Geografia del sentimento. Ecco vogliamo parlare per i nostri amici, fra l'altro lui sarà ospite a Palermo nel prossimo autunno e inverno e quindi avremo modo anche di poterlo seguire anche con la nostra emittente. Ma vogliamo introdurre appunto Nino Agnello ai nostri telespettori facendo un po' la tua cronistoria se così vogliamo definire, questa vocazione alla poesia. La vocazione alla poesia nasce da quando ero ragazzo ginnaziale, il ginnazio mi ha illuminato su quale professione prendere e allora ho scelto dal quarto ginnazio lettere e poi ho coltivato per conto mio la poesia dal liceo e così via. E proprio dal 60 è partita la prima raccolta, proprio nel 60 con il libretto edito a Milano, Gastaldi, e poi nel 69 e così via, l'anno 80. E questo volume collettaneo riunisce tutti questi volumetti proprio che sono usciti nel tempo ma di sola poesia lirica lasciando da parte la poesia di poemetti tra cui quello che ti dicevo ieri se ti facevo vedere questo su Lampedusa che sono poemetti più o meno lunghi, di viaggi, alcuni pubblicati a parte, altri sono venuti, una seconda serie magari più breve ma sempre il poemetto narrativo, descrittivo e poesia anche del mare e poesia religiosa, però già ci sono le antologie particolari. Questo invece è ristamba di tutte le raccolte di carattere lirico. Ecco, io ho sempre avuto la sensazione, leggendo le tue cose, di una grande non solo ispirazione di fondo lirica e anche di grande afflato ma anche di questo senso etico della vita che non solo nelle poesie religiose, tra virgolette, più ispirate al sacro ma nella dimensione totale della tua opera sottende questo rigore, questa scelta di campo forte per l'uomo, per i suoi valori, per quelli che sono le costanti anche del suo essere. Ecco, è vero questo? Sì, senz'altro. Io ho una cultura umanistica, insomma. Perché tanti che hanno una cultura umanistica spesso la tradiscono però purtroppo. Ho una componente religiosa, insomma, nella mia vita, nel mio credo e io per me, insomma, non l'ho mai nascosto né scrivendo né praticando, sono molto religioso e quindi per me diventa una filosofia del vivere anche questo. Perché, tra l'altro, non sono di mentalità mercantilistica, voglio dire, né economicistica, insomma, ma mi piace tutto ciò che mi porta alla spiritualità e anche a una forma di idealismo, non tanto al realismo pratico, ma anche nel campo della saggistica e della critica tu hai anche una bella produzione. Sì, ho una buona produzione di carattere letterario, per esempio storico, quello studio su Garibaldi, come è stato visto dagli scrittori durante 800-900, ho uno studio sulla paternità, la nostalgia del padre, sono dei piccoli profili. Devo dire che poi questo testo che io ho letto è veramente di grande rilievo. Ecco, un autore che fa onore, naturalmente, alla Sicilia e sono lieto di averlo intervistato, di avere chiacchierato più che intervistato insieme a lui, perché anche nel suo paese è anche una testimonianza per i palermitani che vedono la nostra trasmissione, ma anche per chi poi in YouTube riuscirà poi a vedere anche e a sentirti. Grazie, Nino. Grazie a te, grazie.